Schiavi di internet, malati di social. Per arginare il fenomeno della iperconnessione alla rete che sta modificando non sempre in positivo le nostre vite, il Comune di Napoli ha promosso la giornata della disconnessione, con un focus sul tema animato da esperti del settore. Abbiamo incontrato Loredana Borrelli, psicologa dell'età evolutiva, ed Alessio Carciofi, docente in marketing e digital well-being, ossia benessere digitale all'Università di Pisa. Ascoltiamo. La giornata della disconnessione è un'occasione di confronto e dialogo per far emergere una tematica che per noi professionisti della salute sta diventando sempre più importante che è quella dell'iperconnessione e dei danni ad essa legati. Quindi l'occasione di oggi è un modo per porre l'accento su delle problematiche affinché vengano condivise e vengano accolte prima che diventino delle vere e proprie patologie. Sono importantissime queste iniziative, quindi un grande applauso a questa manifestazione che porta l'attenzione, perché il vero tema è questa, l'attenzione su un tema fondamentale, la tecnologia. Oggi tutti noi viviamo due terzi della nostra vita nella tecnologia, ma nessuno ci ha insegnato come viverle, ma soprattutto come fare. E queste giornate portano proprio l'attenzione su come vivere al meglio il rapporto con la tecnologia, specialmente dai più piccoli. Un'iniziativa importante voluta dal Presidente della Commissione Consigliare Politiche Sociali dell'Aula di Via Verdi, Massimo Cilenti, e dall'assessore alle politiche sociali, con delega ai minori, Luca Trapanese. Sentiamo quest'ultimo. La prima volta che abbiamo deciso di promuovere la disconnessione, proprio per dare un messaggio ai giovani di possibilità di essere anche altro. Lo facciamo con una serie di personaggi importanti sui social, che comunicano con la musica, con la poesia, con l'ironia, come alcuni temi sociali. E oggi c'è proprio una staffetta sulle pagine Instagram, sia mia che del Comune di Napoli, ma anche delle 13 persone che partecipano, dove ci saranno una serie di messaggi educativi all'abbandono dei social per alcuni momenti della nostra giornata o alcuni momenti in particolare della nostra vita.